Allora immaginatevi che è il 2010, non so quando vi è arrivata la Wii, è il periodo in cui tutti quanti giocano a Mario Kart, però con la differenza che su YouTube è Jason che ti rompe i coglioni. Ragazzi, 13 anni sono passati da Mario Kart Wii, veramente un sacco di tempo, comunque facciamoci un 150cc, voglio farmi un pochino di mappe, però dobbiamo iniziare con faccetta triste, però non così. Così, molto meglio. Ma che voce è? Non si sa, comunque che scegliamo? Ragazzi, ovviamente lo sapete che tra automatica e manuale dovete sempre scegliere manuale perché automatica è da checche. Allora ragazzi, ci siamo, vediamo se mi ricordo come si parte. Dai, sono partito, è già qualcosa. E vabbè, non penso mi sia mai successo in tutta la mia vita. Anche quando ero un bimbo minchia, mai vista sta cosa? Forse ho la memoria corta. No, oh, levati, madonna mia sta bambina, via, eee. Addirittura faccetta triste, ma prendi pure per il culo le persone. Dove vado? Dove vado? Vado ad esplorare l'Egitto, non è il momento. Voglio, voglio, no, volevo fare la scorciatoia però. Olè, olè, oh, ok. Rosalinda che mi supera per due decimi di secondo, ma non fa niente. Uh, autostrada lunare, dai, questa qui era bellissima. No, oh, pazzo, ma che fai? Oh, dio, madonna, mi sono spaventato. No, no, bra, eh, vabbè, sì. Cannone, cannone, madonna, che vittorie meritate che ti fa prendere il cannone. Sono secondo, signori, e da qui non mi sposto, eh, anzi, sì, mi sposto, divento primo. Ah, no, eh, vedete, ma mi vogliono investire queste persone molto brutte, via, banane. Questa è la mia risposta alle offese, va bene, vi lancio delle banane in bocca, proprio. Aiuto, ho visto un camion che mi voleva mettere sotto. Oh, 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 non ho mancato Daisy. Peach, ma tu mi spieghi alla fine a che cosa servi, che non ti vedo mai nei videogames. Come mai ti trascurano così tanto? Non c'è mai, veramente, viene usata al massimo come quarto personaggio nelle coop. Ma come mai sta cosa, sta povera Peach? Eh, vabbè. Sì, va... Mamma mia, che salvataggio. Via, grosso, grosso, ci piace. Non è servita a niente, ma non fa niente. Mamma mia, piccolo, piccolo, ci piace. Salta, salta. Daisy ce l'ho attaccata al culettino e vai a quel paese. Allora, ci rimane il nemico giurato dell'infanzia di un bambino. Era una roba assurda e la gente usava delle scorciatoie tremende. Mi ricordo, proverò anche io a far... Sì, ok, certo. Ma dove voglio andare io? Vabbè, saltino di qui, saltino di lì e ce la faccio. No, vabbè, non ce la posso fare. Ma che fa? Ma che cazzerò la fa? S'ho caduto cinque volte. E sto a metà primo giro. Mannaggia la miseria, ragazzi. No, guarda, la pista arcobaleno non mi era mancata proprio per niente. Zero assoluto. Vediamo. Cannone, cannone. Oh, grande recupero. Fanculo. Arcobaleno nel percorso arcobaleno. Madonna mia. C'è sto capincaspito. No, ma perché derapo? Non si deve derapalli. Ancora? No, no. Ma perché non ci riesco? Allora, dai, facciamo la scorciatoia. Non si può? No, no. Allora, non ci... Ragazzi, non lo sto facendo apposta. Basta! Sono entrato in un ciclo continuo. Riesco ad andarmene da qui, per favore? Oh, gira. Bravissimo. No! Ma dove vado? Ragazzi, non lo faccio apposta. Ma come mai? Che mi è successo? Prima ero forte. Ma al cannone neanche te lo uso, perché sennò salterei questo punto. E questo punto lo devo fare io da solo. Vai! Sì, vabbè, ragazzi. Il fatto è che mi sto preoccupando perché non lo faccio minimamente apposta. Ed è un po' strana la cosa. Mario, manco Mario. Io riesco a superare. Waluigi sì, però. Fate a cagare. Allora, dal primo posto a che posto arrivo? Al terzo? Secondo. Sono felice. Stavi vista con sta gara? Sarei dovuto essere squalificato. Grazie mille. Grazie mille, ragazzi. Apprezzo, eh. Allora, facciamo che cambiamo personaggio, tanto per variare nel contenuto. Vabbè, va da simpatia. Waluigi. È il più simpatico. Ma che poi la gente ancora batte i record mondiali su questo gioco. E se non sbaglio, usano anche molto questa moto. Via, devo partire col botto! Ah, ho sbagliato pulsante. Stavo premendo A. Oh, 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 oh. Madonna mia, Luigi. Mannaccia, oh. Non me lo ricordavo così difficile, manuale. Ma se torno su automatica, sono incoerente? Boom! Vittoria meritata. Tiè. Risatina malefica. Prendi il cubo. Non l'ho preso. Vinco pure senza. Oh, levati. Mannaccia la puttana. Ok. Dai che ce la faccio. Ma sì che ce la faccio. Yoshi ci ha provato. Dove stai? Con calma, eh. Non è che possa essere sempre primo nella vita. Ci sono alti e bassi. Oh, madonna mia che... Oh, eh, sì, vabbè. Ma come si fanno le propleiate della gente che va... Ecco. Salta qui, non mi ricordo. Ecco, non così. No. L'ho guardato pure, io ho implorato con lo sguardo di non superarmi. Vai. Grossi, grossi. Ma come, è già finito? Vabbè, dai, non fa niente. Vai. Via. Bravo. Complimenti qua, Luigi. Perché se è colpa sua. Ma ragazzi, ma è il momento di un'altra vittoria meritata? Eh sì, è per forza. Ah, la fabbrica di Todd è bellissima. Ma sta mappa, però, quanto rompe le scatole. Grazie, grazie, pubblico. Quelli lì sono i miei fan, eh. Allora, io vado di qui perché sono più intelligente e più furbo. Pitch, levati. Esattamente, sono più intelligente e più furbo. Win, che ti esalti che stiamo... Ma che fai? Allora, ce la devo fare, eh. Non me posso perdere adesso. Mi sono perso adesso. Ma non fa niente. Guarda, qui sono comunque primo perché ho fatto un distacco incredibile. Grazie, grazie. Bellissimi, grazie. Voto D. Ma come D? Oh, ma il trofeo fiore è bellissimo. Ci sta sia l'outlet, che era insopportabile, ma non fa niente. Poi c'è la pista da snow. Vai, Donkey Kong. Ma che c'entri te in sto gioco, non si sa. Wario. Ma ha fatto capi niente. Volevo andare a sinistra. Allora, sta andando male, eh. Sta andando male, però io per fortuna ho le mie strategie. Madonna. Recupero. Via. Ma guarda Peach che aveva fatto un distacco assurdo. Il centro commerciale è la cosa più odiosa di sto mondo. Se sbagli le scale qui, è un disastro. Non lo farò mai. Non posso farlo. Non posso permettermelo. Ma sono primo. Peach. Ma... Peach. No, io qui non ci vado. Peach. Io retromarcia non la faccio, eh. Datemi un attimo. Voglio andare di qui. Cazzarola, mi so scordato che è lento. Ma da quando è così difficile sto gioco? Sto sudando, eh. Per un secondo posto, poi. Dai, Yoshi, ancora qui, stai. Sono primo. Sono primo. Questo è il posto che mi merito. Eole. E infatti. E infatti. Allora, non gioco a Mario Kart da almeno sette anni, otto. Però sta mappa ha la sua memoria. Qui c'è pure il cannonozzo. È proprio il nome scientifico di questo oggetto. Il cannonozzo, sì. Madonna mia. Guarda che lancio che vi fa. Boom. Allora, dai, facciamoci qualche altro trofeo. Io prenderei Mario. Dai, un classicissimo Mario bassino. No, nostalgia fa cagare. Anche se ho un po' di nostalgia. Usiamo scooter filante, che fa ancora più cagare. Sempre Waluigi davanti. Ma com'è possibile? Waluigi, per favore. Madonna. Tra l'altro un minuto e ventotto. Ragazzi, mi potete dire se è il record mondiale? Per favore. Madonna mia. Che pezzo t'ho fatto? T'ho preso la scia. Dai, rapando. Come l'ho detto, derapando. Madonna mia. Mi ha deragliato tutto quanto. Sì, ciao. Grazie, picce. Io ti salvo dai castelli e tu mi investi. Mannaccia. Ragazzi, quanto rosico. Mi si è creato il cubo millisecondo dopo. Allora, uno lo devo usare benissimo. Aspetta un attimo. Non così. Ragazzi, sorpasso. Più o meno. Più o meno. Dai. Sì, vabbè, ma mi superano tutti i mo'. Via, via, via. No. No, no. Luigi. Mannaccia. Terzo. Sì, terzo. Bronzo. Mamma mia, quanto so felice. Guarda quanto è brutto, madonna. Voto D. Sempre una cagata, però. Il gioco non capisce quando me la combatto con tutto l'animo. Allora, facciamo una cosa. Le ultime piste. Volevo usare Schelo Bowser, però rimandiamo. Volevo farmele con Funky Kong, perché non è che sia sto personaggio con sta grandissima lore in questo gioco e in tutti i giochi, penso. Però, messo con la moto Bowser, è il personaggio più veloce del gioco. Vai, mi tuffo. Madonna mia, ho fatto l'applauso con i piedi. Oh, eccone un altro. Sì, vabbè. Ok. Ok che sei grosso, Funky Donkey Kong, quello che sei. Però non ti metterò a competere contro i macigni, per favore. Allora, dai, ultima infamata prima di morire. Pure a te. Secondo. Ma non abbiamo già fatto uno di Castello di... Quanti ne ha, scusami? Vabbè, buon per lui. Complimenti. Non so chi glieli dia tutti sti sordi, non si è mai capito. Ma guarda Diddy Kong. Ci sta distruggendo. Ma perché sei in questo gioco scimmia del cazzo? Ho sbagliato scimmia, dovevo prendere Diddy Kong, quel grandissimo personaggio. Anche lui un sacco importante per la lore. Te spostati, per favore, anche te. Bello Diddy. Madonna mia, l'ho raggiunto. Incredibile Diddy. Per me l'importante è una cosa, che non mi supera quella scimmietta lì. Ma che tristezza. Non me la ricordavo così triste. No, bastardo. Ha fatto più di me. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di avervi riaffiorato qualche ricordo che vi abbia fatto venire memorie. Non lo so ragazzi, fate quello che vi pare. Io vi ricordo che ho un canale Telegram per gli aggiornamenti e un canale live che trovate in descrizione. Fatemi sapere quali altri giochi della Wii volete vedere o qualsiasi altra cosa. E niente. Ci becchiamo. Ciao. 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 Ciao.